Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del calcio mercato della Lazio che è fermo, è completamente fermo e questo ha diviso tanto per cambiare la tifoseria tra chi è preoccupato per questo stallo momentaneo e chi invece dice che non c'è da preoccuparsi perché tanto il ritiro di Aronzo Di Cadore comincia tra 10 giorni e in 10 giorni può succedere qualsiasi cosa l'unica cosa che conta è che un paio di nuovi acquisti siano disponibili tra 10 giorni per il ritiro di Aronzo Di Cadore io personalmente sono d'accordo con entrambe le parti, cioè nel senso, è vero, l'unica cosa che conta è che tra 10 giorni non adesso, tra 10 giorni, quindi tra il 5 e il 6 di luglio, alcuni nuovi acquisti possono essere pronti per allenarsi con i loro nuovi compagni, però comprendo anche benissimo la preoccupazione di buona parte della tifoseria perché? Perché purtroppo, e sottolineo purtroppo, questa società ci ha abituato a grosse delusioni a lunghe attese che poi hanno portato a grosse delusioni, come per esempio il caso David Silva vabbè, lì c'erano delle questioni personali di mezzo, però per farvi un altro esempio la trattativa per Kostic, che poi alla fine non è arrivato e al suo posto è stato preso Zaccagni che poi è stato annunciato qualche ora prima della chiusura del calciomercato estivo la stessa cosa è successa con Cabral a gennaio, è stato annunciato qualche minuto prima del gong finale e potrei farvi moltissimi altri esempi, però per farvi capire che comprendo benissimo la preoccupazione di molti di voi assolutamente, perché è vero che la Lazio è una delle poche squadre in Serie A che ha già chiuso un'operazione, che è quella di Marcos Antonio, che è un'operazione, e qui apro una parentesi è un'operazione molto sottovalutata ragazzi, non ne sta parlando nessuno, sembra che noi non abbiamo preso nessuno invece sì, abbiamo preso Marcos Antonio, che attenzione, non è Matic non è per parlare male della Roma, cioè nel senso è il primo termine di paragone che mi viene in mente non è Matic, essendo anche lui un centrocampista Matic tra un mese compie 34 anni, 34 anni, che è l'età che aveva lo scorso anno Leiva per farvi capire no, Marcos Antonio ha 21 anni cioè un calciatore con grandi margini di miglioramento davanti a sé ed è stato preso a 8 milioni quindi è un'operazione secondo me molto sottovalutata stavo dicendo, chiudo la parentesi è vero che la Lazio è una delle poche squadre che ha già chiuso un'operazione ma è anche vero che è la squadra che ha bisogno di fare più mercato è la squadra che ha bisogno di prendere più giocatori perché in questo momento alcuni reparti sono completamente spogli di giocatori non c'è poco da fare abbiamo un difensore centrale che è Acerbi e che tra l'altro è anche sul mercato anche c'è una trattativa con il Milan, è anche sul mercato del rinnovo di Patrick non si sa assolutamente niente tanto per cambiare non ci sono difensori centrali quindi è importantissimo che il ritiro di Ronzio di Cadore inizi con due nuovi difensori centrali è importantissimo ma mancano anche altri elementi manca il terzino sinistro manca il vice immobile anche se quello non è così urgente però manca il portiere titolare questi sono giocatori che vanno presi il prima possibile c'è poco da fare inoltre c'è anche un altro discorso da fare alcuni calciatori non si presenteranno ad Auronzo di Cadore prima del 14 luglio perché hanno giocato in nazionale e quindi salteranno un'intera settimana di preparazione e parlo di Milinkovic-Savic parlo dello stesso Acerbi parlo di Marusic, Isai cioè praticamente gli unici terzini di difesa che avremo a disposizione fin dall'inizio sono Radu e forse Lazari forse Lazari perché fino a qualche giorno fa era infortunato cioè capite bene il quadro della situazione è una situazione delicata ecco è una situazione delicata quindi la Lazio deve iniziare ad operare sul mercato da subito cioè deve chiudere determinate operazioni il prima possibile come ha già fatto nel caso di Marcos Antonio detto questo io non voglio continuare a leggere giornalisti che scrivono Sarri si dimette o Sarri è scontento che sono le stesse cose che leggevo lo scorso anno in questo stesso periodo cioè secondo alcuni giornalisti Sarri si vorrebbe dimettere dopo un mese che ha firmato con la Lazio in questo caso Sarri si vorrebbe dimettere dopo due settimane che ha firmato il rinnovo con la Lazio per altre due stagioni ragazzi ma di che cosa stiamo parlando? Sarri tra l'altro è uno che ha sempre detto davanti alle telecamere perché è uno che non ha peli sulla lingua ha sempre detto davanti alle telecamere che a lui non gliene frega nulla del calciomercato però attenzione non fraintendetemi non vuol dire che non gliene frega nulla dei giocatori che la Lazio gli prende no vuol dire che lui non segue il calciomercato non gli interessa nulla seguire il calciomercato lui indica alla società le caratteristiche di cui ha bisogno per la sua squadra e la società si adopera sul calciomercato per soddisfare i suoi bisogni carne secchi per esempio è un portiere che rispecchia le caratteristiche di cui ha bisogno Sarri le caratteristiche che richiede Sarri per il portiere portiere bravo nelle uscite che comanda l'area di rigore portiere di personalità è quello infatti la Lazio sta provando a prendere carne secchi ma non voglio leggere giornalisti che scrivono è c'è stallo per carne secchi perché tare spinge per Sergio Rico ma non ha il minimo senso cioè la Lazio è arrivata a offrire 15 milioni di euro per carne secchi mentre tare spinge per Sergio Rico ma che vuol dire? ma qui siamo in un telefilm la verità è che la trattativa per carne secchi è in stallo non perché tare spinge per Sergio Rico ma perché l'Atalanta mentre prima chiedeva 15 milioni di euro adesso ne chiede 18 sapendo che la Lazio ha urgentemente bisogno di un portiere ha alzato le sue richieste molto semplice è molto semplice alcune volte basterebbe ragionare con la propria testa lo stesso vale per Romagnoli è Romagnoli firma per il Fulham venerdì ma perché? perché dovrebbe farlo? va di fretta Romagnoli? cioè non va di fretta di bala ma va di fretta Romagnoli? ragazzi ma veramente? poi la sua fretta lo porta a firmare per una squadra di Premier League che lotta per non retrocedere rinunciando alla squadra del suo cuore per cui ha tanto spinto ragazzi questa solamente per 200 mila euro in più o in meno è follia è veramente follia cioè mi sembra che stiamo vivendo un telefilm quindi io chiedo ai laziali di ragionare con la propria testa quando leggo in un articolo ok? perché questo è il periodo dei giornalisti questo è il periodo in cui i giornalisti si divertono a a sparare cazzate fanno a gara a chi fa più click ok? perché è lo scopo del giornalista lo scopo del giornalista è che il lettore clicchi sull'articolo e se lo legga scrivendo titoli accattivanti che magari non hanno il minimo senso e quindi io chiedo ai laziali di stare attenti ragionate quando leggete un articolo vi prego non date non date non credete a tutto quello che vi propinano per favore ok? la Lazio lavorerà sul calciomercato io ne sono sicuro anche io sono un po' preoccupato perché gli anni passati mi portano ad essere un po' preoccupato però io ho fiducia in Sarri ecco io posso dire di avere fiducia in Sarri per il portiere la Lazio sta facendo le sue valutazioni come è giusto che sia a quelle cifre ok? la situazione del portiere è una situazione delicata e va compresa da parte nostra ok? va compresa ma io sono sicuro che oltre a Marco Santonio ci saranno altri acquisti che saranno pronti il 5 o 6 luglio per il ritiro di Aronso di Cadore ditemi che cosa ne pensate nei commenti mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza Lazio